e ce n'è Gray, l'attacco poi, per la canadese che viene murata salva tutto Donato, poi Cecchetto si va da McMeon salva tutto, ancora in difesa Marignano, poi Markovic sul posto salta e schiaccia c'è la difesa di Cecchetto, poi Gray tocca il muro, salva tutto Battistoni, Cibertini, Bagger per l'attacco ancora di Markovic, out, ma c'è il muro, e allora finisce qui 13-15 Marignano è in semifinale Coach Barbieri finisce al tie-break di gara 2 dei quarti di finale, la stagione del volle soverato al termine di una partita equilibrata, combattuta, avvincente, persa al fotofinish 13-15 Sì sì, si è persa per due o tre episodi, di cui un paio, chiamiamoli i dubbi però questo la palla vola, loro sono state brave, devo dire sono state superiori a noi in difesa, noi lo siamo stati sicuramente a muro, visti i nostri 17 muri, però loro sono stati forse un pochettino più tecnici, un pochettino più pazienti nei momenti di difficoltà, però ripeto, questi due episodi che hanno deciso il match fanno parte del gioco, ci mancherebbe Un soverato che nonostante l'ottima difesa di Marignano, come diceva lei, oggi rispetto alle altre prestazioni è stato più continuo in attacco, ha sviluppato le sue azioni con maggiore efficacia e maggiore continuità, quindi forse il rammarico aumenta anche per questo Sì, no no no, è stata una bella partita, sia a livello emotivo che a livello tecnico azioni prolungate, noi sapevamo che era la loro forza e siamo state brave perché le ragazze comunque nell'arco dell'anno sono cresciute in questa situazione, però ripeto non è bastato quello che abbiamo fatto e complimenti a loro Infine, visto che siamo praticamente a fine stagione, c'è qualche rammarico da parte di coach Barbieri, forse questa squadra aveva nel potenziale qualcosa in più che poteva esprimere nel corso dell'anno Ma sempre è logico che uno chiede sempre qualcosa di più, spera qualcosa in più, neanche convinto, però poi è il campo che decide e fa, noi sicuramente diciamo l'obiettivo era quello di andare a playoff, ci siamo arrivati, speravamo di fare qualcosa di più, forse siamo arrivati anche con qualche acciacco di troppo, devo fare anche i complimenti alle ragazze per questo perché qualcuna di loro è scesa in campo magari non in una condizione fisica ottimale, però hanno stretto i denti, hanno giocato questo ci è stato anche un pizzico di sfortuna, però ripeto, la nostra stagione è stata questa, speravamo di fare qualcosina in più, perlomeno allungare la serie nei playoff, però non siamo neanche certo, non è stata sicuramente una stagione fallimentare, fallimentare sono quelli che non arrivano ai playoff, ecco questo è con Laura Frigo, una delle veterane di questo gruppo, commentiamo questa amara gara 2 che chiude la stagione del Valle Soverato, una sconfitta di misura al tiebreak al termine comunque di una buona prestazione a dispetto anche di quello che dice lo scout, di quello che dicono i numeri, vi siete equivalsi contro una squadra che lotta su ogni palla e lo sapevate? Sì, è stata una lotta, si può vedere da come è finita la partita, 15 a 13 il tiebreak, noi ce l'abbiamo messa tutta, siamo partite molto bene secondo me, molto concentrate, soprattutto il primo set, sempre in vantaggio, quindi la volontà da parte nostra c'è stata, non solo quella, onora l'avversario. Al di là della prestazione di oggi, che comunque è stata positiva, rimane forse la amaro in bocca da parte vostra perché non siete riusciti a fare qualcosina in più nella gara di andata, dove magari potevate mettere più in difficoltà gli avversari? Sì, assolutamente, non so che cosa sia stato il fattore campo, sicuramente la prestazione di questa sera è stata tutt'altra rispetto a quella dell'andata, secondo me a tratti all'andata non siamo, non eravamo proprio pervenute, possiamo dire così. Sì, rammarico, però d'altronde queste cose vanno un po', diciamo, come capita. Infine, cosa ti senti di dire anche all'ambiente tifosi, tu sei tornata questa estate, la scorsa estate con tanto entusiasmo assoverato, dopo una stagione che era stata travagliata, quest'anno sicuramente non è stata come quella tua precedente di qualche anno fa, una stagione con alti e bassi, dove alla fine si è riuscita ai quarti di finale, però c'è margine per ripartire, c'è un lavoro che è stato fatto che sicuramente può porre le basi per il futuro. Assolutamente, secondo me parte di questo gruppo può essere mantenuto e il lavoro va continuato, assolutamente sì e bisogna migliorare anche le cose che non siamo riusciti a migliorare quest'anno e che secondo me si poteva fare qualcosa di più. Coach Stefano Saia torna per la seconda volta in stagione da avversario a Soverato dopo averlo allenato la scorsa stagione, c'era stata già in campionato una vittoria qui a Soverato, c'è un'altra vittoria, questa volta più sofferta, ma che ha un sapore molto particolare perché vi proietta in semifinale play-off. Sì, una vittoria che vale tanto, vale la semifinale play-off, io quando vengo a Soverato lascio sempre, è sempre una partita particolare per me. Devo dire che non credo sia stata una bella partita dal punto di vista tecnico, probabilmente avvincente perché è finita al 15-13 al tie-break, però è stata una partita dove gli episodi e il nervosismo secondo me hanno fatto la differenza. Noi siamo stati troppo fallosi in alcune parti della partita e la nostra efficienza d'attacco non è stata all'altezza dell'avversario che avevamo di fronte per alcuni tratti del match, quindi questo non ci ha permesso di tenere la testa avanti, abbiamo preso dei filotti di punti concedendo degli errori consecutivi all'avversario e questo ci ha un po' demoralizzato. Dall'altra parte c'era una squadra che ha dato tutto quello che aveva per rimanere attaccata alla serie e quindi questo è stato un po' l'esito di una partita giocata secondo me a fasi alterne da una squadra e dall'altra. Siamo riusciti a spuntarla noi al tie-break 15-13 probabilmente perché nelle due o tre situazioni finali abbiamo avuto leggermente più lucidità rispetto a Soverato. Ecco al di là di qualche aspetto dove siete stati più fallosi come diceva lei però c'è anche da rimarcare una prova di Marignano di grande carattere perché siete stati sotto 1-0, 2-1 ma la squadra non si è mai disunita, ha lottato, ha reagito bene nel quarto per arrivare al tie-break e anche nel tie-break dove era partita subito bene 2-6 pur essendosi fatta recuperare non si è mai deconcentrata, non ha mai mollato, quindi è una prova anche di carattere della sua squadra. Ma devo dire che questo carattere queste ragazze lo stanno tirando fuori dall'inizio dell'anno, è un gruppo che lavora molto bene in palestra, che è capace di tenere la concentrazione ed è capace di giocare con lucidità e senza perdere la bussola troppo spesso. Oggi in realtà l'abbiamo persa fin troppo ma la grande capacità di queste ragazze è quella di lasciare andare il punto che è andato e pensare a quello successivo. Questa è una cosa su cui abbiamo lavorato e sono contento che non solo in questa partita ma in tante partite durante il campionato questo aspetto sia venuto fuori ed è stato il motivo per cui per esempio tante, anche tante sconfitte nostre, sono finite con dei punti e per la classifica è stata molto importante. Vittoria della Coppa Italia di A2, quarto posto in regular season, adesso semifinali playoff raggiunte, dove può arrivare questo Marignano a questo punto? Ormai è un mantra che ripeto da settembre, noi siamo una squadra che ha fatto una buona stagione, che deve continuare secondo me ad esprimere quelle potenzialità che ha dato prova di avere. Noi giochiamo una partita per volta, dobbiamo cercare di giocare una partita per volta al massimo delle nostre possibilità e quando abbiamo finito ci guardiamo indietro e vediamo dove siamo arrivati. Serna Markovic, una delle protagoniste di questa bella vittoria di Marignano qui a Soverato, conquistata la semifinale playoff, una grande soddisfazione per tutti voi. Sì, devo dire, siamo venuti qua per vincere però loro non ci hanno fatto facile e siamo veramente contenti di aver vinto e non ci vediamo loro a giocare il semifinale. È stata una partita molto sofferta, combattuta, avvincente, però voi siete state bravi a non mollare mai, nemmeno quando siete andati sotto 2-7-1. Bravo a loro perché non ci hanno fatto facile, come ho detto. Erano momenti dove abbiamo sofferto tanto, però come squadra ci siamo tenuti insieme e abbiamo riuscito a trovarci e giocare il nostro gioco e arrivare fino al fondo e l'ultimo punto era nostro. Adesso questa squadra è arrivata in semifinale, ha già vinto la Coppa Italia di A2, vi state togliendo veramente tante soddisfazioni quest'anno questa squadra, questa società, questo staff tecnico. Sì, all'inizio non pensavamo arrivare qua in fondo, è per la società il primo anno che siamo così in alto, abbiamo vinto la Coppa Italia e adesso non c'è dubbio andiamo per il primo posto.